Questa settimana si è molto discusso dell'autocandidatura di Carlo Calenda a sindaco di Roma. Carlo Calenda che solo un anno fa si era presentato all'elezione europea dopo aver lanciato un manifesto europeista sull'importanza dell'Europa nelle nostre vite, sull'importanza di impegnarsi a livello europeo, oggi sembrerebbe pronto ad abbandonare il Parlamento europeo che pur ha un ruolo decisivo nella legislazione europea che ormai il 70% della legislazione è vigente. Una scelta che mostra tutto sommato un impegno e un rispetto limitato per l'istituzione, il Parlamento europeo di cui fa parte e anche una scarsa coerenza rispetto a quel manifesto europeista che aveva lanciato.